gentili telespettatori buona giornata lo staff del generale conferma l'autenticità del video e conferma anche il messaggio il generale si riferisce proprio alla decima flottiglia mass mass acronimo di motoscafi d'assalto che poi si schierò con la repubblica sociale italiana contro gli anglo americani e i partigiani che stavano liberando l'italia che cosa è successo che il generale fa un video per i suoi fans non è sui suoi social ufficiali ma fa un video ai suoi fans dove dietro c'è la bandiera italiana e lui che dice di fare una decima scritto maiuscolo sulla scheda votando vannacci e lega molti hanno detto questo è un chiaro riferimento alla x mass che non sono gli auguri di natale ma è la decima flottiglia motoscafi d'assalto che poi si schierò con la repubblica sociale italiana la sinistra è saltata sulla sedia quando ha visto una cosa del genere io mi sono chiesto credo che forse il generale ha sbagliato partito perché non credo che la lega sia proprio un partito che possa rappresentare un generale che ha queste idee insomma un generale che sta con un partito che sappiamo tutti negli anni 90 su cosa si basava quali erano le sue idee no la lega di bossi dividere l'italia la padania non riconoscere neanche il nome italia capisco l'opportunità di diventare euro deputato però credo che non sia propriamente il partito giusto per chi ha delle idee che mostra evidentemente il generale vannacci perché poi il suo staff conferma tutto perché dice proprio così lo staff del generale conferma l'autenticità del video ha però tenuto a precisare il contesto del riferimento alla x mass quindi il generale conferma che non c'è nessun equivoco si parla proprio della decima flottiglia motoscafi d'assalto che era comandata ai tempi dal del generale junio vanerio borghese che era proprio il principe borghese l'unico uomo che dava del tu l'unica persona che dava del tu al dittatore che poi negli anni 70 tentò il colpo di stato militare in Italia poi scappò all'estero perché il colpo di stato venne immediatamente ritirato probabilmente mancò l'appoggio degli stati uniti che inizialmente diedero e il colpo di stato che era già in atto lui era pronto a proclamare la dittatura già dal era già era già pronto il rai a fare il proclama alla nazione mentre già colonne di carri armati si dirigevano a sesto san giovanni che era indicata come la stalingrado d'italia colonne della forestale provenivano dal sud la mafia già in accordo con il principe borghese stava impossessandosi dei 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 punti nevralgici del del sud del centro sud era già stato preso il ministero degli interni con tutte le sue armi quindi già diversi reparti delle forze armate erano erano per strada quel colpo di stato fu interrotto immediatamente lui era il comandante della decima massa ex comandante della decima massa quindi lo staff del generale dice precisa il riferimento alla decima massa dicendo la decima massa come riportato da tre cani l'enciclopedia italiana è il reparto dei mezzi d'assalto della marina italiana che nel marzo del 1941 assunse la dominazione la denominazione di x flottiglia massa quindi decimo raggruppamento navale motoscafi d'assalto perché l'italia era c'erano dieci gruppi navali la maggior parte erano gruppi navali da battaglia dove al comando di questi gruppi navali c'erano le corazzate vittorio veneto la corazzata giulio cesare la corazzata littorio questi erano i tre principali gruppi navali da battaglia con al comando delle grandi navi di superficie fino ad arrivare al decimo gruppo navale che era la x mass aggiunge lo staff del generale che nel libro il coraggio vince il generale vannacci ricorda come da ragazzo fu ispirato ad entrare nei corpi speciali dell'elite delle forze armate dalle imprese compiute dalla decima flottiglia mass prima dell'armistizio si sottolinea quindi che il riferimento come già scritto nel libro è alle imprese del decimo gruppo navale d'assalto di malta e di alessandria d'egitto prima dell'otto settembre quindi a pochi giorni dalle elezioni il generale valnacci mostra proprio le sue chiare ed esplicite idee confermate dal suo staff quindi non c'è da interpretare o no il video lui lo dichiara lo dichiara così c'è la prima reazione che arriva da angelo bonelli che dice l'appello al voto diffuso sui social del candidato della lega vannacci in cui si invita a mettere una decima sulla scheda è un atto assurdo inaccettabile che offende profondamente la memoria storica e il rispetto per le vittime del nazifascismo la divisione decima dopo l'otto settembre divenne una delle milizie nazifasciste più feroci della repubblica di salò responsabile di almeno 300 morti innocenti secondo le stime dell'atlante stragi naziste la nota di alleanza verdi sinistra continua dicendo che è doveroso ricordare che gli uomini della flottiglia decima massa e poi fa l'elenco di tutto quello che quello che è successo dopo l'otto settembre quando la decima massa faceva parte della repubblica sociale italiana quindi parlano di insulto alla nostra democrazia e ai valori su cui si fonda la nostra repubblica insomma il generale in questo venerdì 31 di maggio con pochissime notizie ci tira fuori un argomento da campagna elettorale insomma poi ognuno di voi farà le sue valutazioni farà le sue i suoi pensieri però insomma forse visto che la sinistra continua a parlare di fascismo ci mancava solo il generale ad alimentare la propaganda di sinistra grazie a tutti e arrivederci a presto